Chi è Giovanni Ciacci e perché danza con un uomo a Ballando con le stelle?. Tra i protagonisti indiscussi di questa nuova edizione di Ballando con le stelle 2018 ci sarà anche Cancelletto Giovanni Ciacci che questanno rappresenterà una grande novità allinterno del meccanismo della gara di ballo dello show di Rai 1 condotto da Millie Carlucci. Per la prima volta in tutta la storia di Ballando con le stelle, infatti, vedremo che un uomo ballerà con un altro uomo in quella che al giorno doggi si chiama Dancesame 6. Nel cast di Ballando con le stelle 2018 che è Giovanni Ciacci, ballerà con un uomo. Da questa sera, infatti, Giovanni Ciacci sarà in gara a Ballando con le stelle 2018 con Raimondo Todaro. La presenza della prima coppia di Ballerini Uomini nel cast dello show di Rai 1 ha scatenato non poche polemiche. In moltissimi hanno puntato il dito contro la produzione dello show, in modo particolare Mario Adinolfi, il quale ha dichiarato che la presenza di Giovanni Ciacci sarà in gara. Nel cast, dichiaratamente omosessuale, può essere considerata una sorta di tassa che la Rai ha dovuto pagare alle lobby gay. Polemiche sterili che hanno scatenato accese discussioni sul web e sui social dove sono stati tantissimi coloro che hanno puntato il dito contro Mario Adinolfi che in questo modo non ha fatto altro che far accrescere ancora di più la popolarità di Ciacci, già volto apprezzato del piccolo schermo. Il concorrente di Ballando ha ammesso che ballare con un uomo lo rende più sicuro di se stesso. Per chi non lo sapesse, infatti, Giovanni Ciacci è uno dei customisti più amati e apprezzati del piccolo schermo. La sua carriera ha preso il volo negli anni 90 come curatore di Magine di Valeria Marini ai tempi del Bagaglino e poi successivamente ha collaborato con tante star della televisione italiana, tra cui Antonella Clerici, fu sua lidea degli abiti super pomposi del Festival di Sanremo. Ecco cosa fa Giovanni Ciacci in tv. Oggi Giovanni Ciacci è noto soprattutto per la sua partecipazione quotidiana a detto fatto, il factual show di Rai 2 condotto da Caterina Balivo dove si occupa del cambio look di persone comuni ma dove lo vediamo anche protagonista di diverse rubriche dedicate al gossip e allo spettacolo. Giovanni Ciacci ha dichiarato proprio a detto fatto di essere abbastanza preoccupato per le prima performance a Ballando con le stelle di questa sera e per il verdetto della giuria ma non ha dubbi sul fatto che sia lui la vera star della trasmissione del sabato di Rai 1 e ha aggiunto che il suo scopo è quello di vincere e portarsi a casa la coppa finale dello show.